Grazie al Consigliere Cenci, la risposta alla giunta, la parola all'assessore Foroni. Sì, grazie Presidente. Chiaramente l'interpellanza è molto ampia, io non starò mai, l'ho già preannunciato nei cinque minuti, mettetevi l'anima in passe. Devo ringraziare il Consigliere Cenci e gli altri firmatari, perché devo dire che hanno formulato un'interpellanza molto competente ed approfondita e mi consente di illustrare ampiamente le azioni regionali in materia di mitigazioni del dissesto idrogeologico e le problematiche connesse ancora da sviluppare. Innanzitutto lo stato del dissesto idrogeologico in Lombardia, così come fotografato dal rapporto ISPRA 2018, i cui dati sono stati ampiamente utilizzati per questa interpellanza, restituisce un territorio con problemi certamente significativi, ma nel quale c'è da riconoscere tanto è stato fatto negli ultimi anni. Vengo ora a rispondere più direttamente alle tante sollecitazioni che sono contenute in questa interpellanza. Eventi novembre-dicembre 2019, situazioni di maggiore criticità. L'ondata di maltempo che ha investito il Nord Italia nel novembre-dicembre scorso è stata particolarmente intensa, ma in Lombardia abbiamo avuto fenomeni di dissesto modesti, sia perché massimi di precipitazioni erano localizzate sui crinali appenninici ed alpini tra Liguria e Piemonte, che hanno avuto purtroppo danni molto più ingenti, sia perché il sistema delle opere di protezione lungo i corsi d'acqua a Lombardi ha retto molto bene, fatta eccezione per alcuni tratti di corsi d'acqua minore, particolarmente i sollecitati dei flussi di piena naturali e di drenaggio urbano, come ad esempio in provincia di Pavia e di Brescia. La situazione delle piene del fiume Po, in gran parte derivante dai contributi di piena degli affluenti di destra del Piemonte e subordinatamente del Ticino, è stata monitorata da Aipo durante tutto il periodo di sviluppo e non ha destato particolari preoccupazioni, avendo anche attivato il servizio di piena. Qualche limitato problema solo nelle province di Pavia e Lodi, che però sono stati prontamente risolti tramite locali somme urgenze. Senza grossi problemi la piena nei territori delle province di Cremone e Mantova. Complessivamente Aipo ha attivato interventi di somma urgenza per circa 700 mila euro. Come spesso accade nelle zone montane, i dissesti idrogeologici più importanti sono venuti nei giorni seguenti questi fenomeni, queste importanti precipitazioni, che hanno colpito soprattutto l'oltre po' pavese, la frana di Varze, la valtellina, la frana di Forcola, con l'interruzione di due strade provinciali. La ricognizione complessiva dei danni dichiarati dagli enti locali è di circa 22 milioni di euro e i territori più colpiti sono la provincia di Pavia, quella di Brescia e quella di Bergamo. Come sempre questi dati vanno relativizzati in quanto trattasi delle prime ricognizioni e stime che poi possono subire naturalmente riduzioni anche significativi. Per affrontare questa situazione di emergenza, oltre 700 mila euro messi in campo da Aipo, Regione è intervenuta con diversi pronti interventi, sia a favore dei comuni interessati, dai dissesti che per tamponare situazioni lungo il reticolo principale. Tra novembre e dicembre sono stati finanziati tre pronti intervento di somma urgenza ai comuni richiedenti per un totale di 195 mila euro, mentre per quanto riguarda l'UTR, quindi le articolazioni locali, ma sempre Regione, sempre per circa un milione di euro. Ulteriori cinque interventi sono stati finanziati per manutenzione straordinaria ai comuni per un importo complessivo di 275 mila euro. E quindi anche i gravi fenomeni di novembre sono costati a Regione Lombardia un milione e 470 mila euro più 700 mila euro stanziati da Aipo. Su questa situazione non sono giunte richieste di attivazione dello stato di emergenza da alcuno degli enti locali interessati e pertanto, come detto, sono stati tutti coperti da risorse regionali. Con riferimento al piano stralcio, anche qui mi dà l'opportunità di fare chiarezza e bene fare alcune precisazioni. Il decreto, il DPCM del 20 febbraio 2019, Proteggi Italia, ha previsto un piano stralcio per il 2019 di circa 29 milioni di euro a favore di Regione Lombardia. Il Commissario Presidente della Regione Lombardia ha però potuto adeviare il piano stralcio solo a valle dell'effettiva attribuzione delle risorse finanziarie e quindi con il provvedimento da parte del Ministero dell'Ambiente, avvenuto solo il 10 ottobre 2019, cioè circa otto mesi dopo dell'approvazione. È interessante riflettere sul fatto che un piano di interventi urgenti, previsto da un atto governativo firmato il 20 febbraio, sia poi effettivamente potuto attivare solo otto mesi dopo. Su questo però voglio dire che allo stato attuale del 14 gennaio dei 23 progetti di intervento finanziati, 16 sono in fase conclusiva della progettazione esecutiva. Sette hanno già pubblicato il bando di gara e due hanno già giudicato i lavori che stanno per iniziare. Il Commissario già ha trasferito agli enti attuatori importi per 2,8 milioni di euro. Dal monitoraggio degli avanzamenti risulta che tutti gli interventi, ripeto, tutti gli interventi, sono in linea con i tempi previsti dalla delibera Cipe e addirittura che per qualche intervento siamo addirittura in anticipo. Interventi di manutenzione alve, abbandone dei terreni, e condivido l'importanza della tematica, tant'è vero che già nel 2018 ho portato in giunta e fatto approvare congiuntamente, quindi concerto con l'assessore agli enti locali e montagna, la DGR 238, che appunto sono gli indirizzi per la programmazione e progettazione degli interventi delle opere di difesa di suolo dei corsi d'acqua. Questa nuova direttiva introduce nuove modalità per affrontare la manutenzione dei corsi d'acqua, di una programmazione di manutenzione straordinaria dei bacini principali della Lombardia, con una visione unitaria degli interventi, superando la logica dell'intervento richiesto dal singolo ente locale e con un'attenzione specifica alla regolazione della vegetazione in aveo. Ad esempio, possiamo ricordare per il tramite di AirSaf gli interventi nei bacini dei fiumi Pioverna, Staffora, Olio Sopra la Quale e Dolona, per un finanziamento regionale di 4 milioni. Altri interventi per il tramite di Aipo, per i bacini del fiume Seveso, Terocce, Certesa, Morgora e corsi d'acqua del nodo idraulico brisciano, 3 milioni e 4. Tutta una serie di ulteriori interventi di manutenzione tramite Aipo e i consorsi di bonifica nei bacini del fiume Cherio e l'Ambro Meridionale, 1 milione e 7. Serie di interventi per quanto riguarda altri consorsi di modifica, il Muzza, il Villoresi, Media Pianura, su diversi corsi bacini d'acqua, 4 milioni di euro all'anno per tre anni e una serie di ulteriori interventi per quanto al consorzio Garda Chiese e Territori del Mincio, 1 milione di euro per tre anni e interventi di manutenzione straordinaria per 33 interventi ulteriori per un importo complessivo di oltre 8 milioni di euro. A questo anche il bando della Direzione Generale Enti Locali Montagna, di concerto con la mia Direzione Generale, dove sono arrivate richieste di finanziamento per 32 milioni di euro e sono stati finanziati interventi per circa 24 milioni di euro. Insomma, questa giunta regionale sta investendo molto e dal 2018 al 2021 abbiamo investito circa 57, oltre 57 milioni di euro su questa materia, che è una materia importante perché il discorso della prevenzione è il miglior rimedio. Poi ci sarebbe da affrontare tutto il discorso del sistema di protezione civile, ma grazie al cielo non è oggetto di questa già abbondante interpellanza, però stiamo agendosi di una ricognizione della prevenzione e un discorso dell'immediata attivazione in caso di disastri. Strategie per superare l'impermeabilizzazione dei suoli vado molto veloce. Innanzitutto il PTR adeguato alla legge contro il consumo di suolo, la legge 18 in materia di rigenerazione urbana e infine il tema dell'invarianza idraulica che è entrato finalmente in vigore dal 1 gennaio 2020 in regolamento nel tutto la sua interezza che ha avuto una serie di modifiche anche per venire contro alle esigenze dei vari stakeholder. È chiaro che i risultati non possono essere previsti nell'immediato, ma a un tempo prevediamo di circa 10-15 anni. Chiaramente queste politiche non saranno interrotte, ma si continuerà ad andare chiaramente in questa direzione. I contratti di fiume sottoscritti li leggo soltanto senza entrare nello specifico, poi consegnerò la risposta al consigliere Cenci. L'AQST, contratto di fiume Olona, Bozzente, Lura, Lambro, Meridionale. L'AQST, il contratto di fiume Seveso, l'AQST, contratto di fiume Lambro, Settentrionale, il contratto di fiume Mincio, il contratto di fiume dell'Alto Bacino, del fiume Adda, l'accordo di programmazione negoziata, contratto di fiume Bardello, l'AQST per il risanamento del lago di Varese. Sono inoltre attivi i processi avviati dagli enti locali per la promozione e la sottoscrizione dei seguenti contratti di fiume, contratto di fiume Toscolano, contratto di fiume della media Valle del Po, contratto di fiume dell'Olona, dell'Olona Meridionale. Questi sono finiti, questi sono gli interventi, molto velocemente, cercando di sintetizzare il più possibile la risposta, che però penso che dimostrino una grande attenzione di Regione Lombardia in questa materia. Ripeto, non possiamo vederla solo nel discorso, dobbiamo vedere le due facce della moneta. Il discorso della prevenzione quali opere pubbliche, quindi difesa di suolo, rischio idrogeologico, ma anche l'altra faccia della medaglia, i tanti investimenti in materia di protezione civile, perché quando purtroppo succede qualcosa, l'immediata attivazione dei sistemi di procedura civile aiuta a prevenire danni ben maggiori. Quindi sono due facce della stessa medaglia di un'ottica della prevenzione. Grazie. Grazie all'assessore Foroni. Abbiamo lasciato un po' con rischio.